Demme, Demme, io ti amo, Demme, io ti amo, Demme, Demme, io ti amo, Demme, Demme, io ti amo, Cazzate proprio il centrocampista fisico Il centrocampista tecnico Questo è il centrocampista Quello che c'ha la testa Quello che c'ha la testa Lui Che per 90 minuti contro una squadra del cazzo come lo Spezia Che uno la vede e dice Vabbè potrei anche farmi i cazzini e giocare una partita da media Lui ha sudato 90 minuti E c'aveva i crampi al 93esimo Una partita intera imprescindibile Ha retto praticamente la fase difensiva insieme ai due difensori Ha fatto un lavoro di sacrificio che mamma mia Perfetto Sono stato un minuto a parlare di Demme in questo video Ora parliamo della partita Inizia con il colpo di tacco di Koulibaly Troviamo 4 code molto molto belli Nei quali uno, secondo me il più bello di tutti È quello di Elmas Che veramente oggi ha fatto una grande partita Dopo Demme è il migliore in campo E finiamo il primo tempo sul 4-0 Perché non giochiamo sempre così? Perché non giochiamo sempre così? Mannaggia la miseria Ve lo dico io perché Perché oggi giocavamo col 4-3-3 Con Zerisky Dame Zala Elmas Dame Zala Che sono i loro ruoli nativi E Demme In mezzo che oggi ha fatto una partita monumentale Ma l'ha fatto anche contro la Juve L'ha fatto Demme È sempre imprescindibile Non a caso Nell'Ipsia Che era primo in Bundesliga l'anno scorso Demme era il capitano Era il capitano dell'Ipsia Ci sarà un motivo Se è venuto qui Ci sarà un motivo Se ha lasciato il L'Ipsia Prima in classifica per il Napoli Per giocarsi un posto in Champions Vuol dire che questo Suda la maglia E questo voglio Molto bene Molto bene lo Zanno da prima punta Lo Zanno in splendida forma Possiamo dire che oggi la formazione Titolare che è partita Era la migliore che il Napoli potesse mettere Perché nel secondo tempo Si è visto quali sono i problemi Dei vari Mertens Osiman Quelli che sono entrati Insomma Che sono giochi che ancora sono da recuperare Mertens E' stato addirittura sostituito Cioè è entrato E poi è stato sostituito Quindi proprio Una delusione Ma io lo accetto Perché lui deve ancora rientrare Osiman Ho visto un problema A livello fisico proprio Cioè lui Non mi sembra in grande forma fisica Ve lo dico sinceramente Forse a livello mentale c'è C'è Perché è sul pezzo Ha recuperato tante palle in difesa Si è sacrificato A livello fisico Non lo vedo bene Poi Insigne Forse si è un po' ripreso A livello emotivo Anche lui Ha fatto un bellissimo assist Ha saltato l'uomo Oggi ha veramente Incarnato quello che è il suo ruolo E la cosa che mi fa arrabbiare Sono quei due gol presi Nel secondo tempo Ma cosa mi significa Ne? O Agiu Ma cosa mi significa Piliare quei due gol nel primo tempo È inaccettabile secondo me Detto ciò Bene Passiamo questo turno di Coppa Italia A Famucca Movendo una partita Ma io voglio più giocatori come Demme Perché come vi ho detto nello scorso video Ci vogliono giocatori da Gattuso Gattuso è un allenatore che vuole l'impegno Il sudore in campo E l'unico che rincarna questo spirito È Diego Demme Ci vogliono Voglio 11 Demme io Eh Ci vediamo al prossimo video Sempre Forza Napoli E bello a tutti Grazie